prima di iniziare a guardare il video vi ricordo se non lo siete già di iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche lasciare un like e leggere sempre la descrizione del video benvenuti tutti ragazzi in questo nuovo video oggi andremo ad affrontare l'inizio delle complicazioni con i vettori introdurremo la terra di mezzo tra l'uso base del c con l'uso più avanzato questo perché i vettori toccano molti aspetti inerenti alla memoria al momento ci limiteremo a imparare che cosa sono come si creano e come si gestiscono a livello base sinora ci siamo limitati a utilizzare semplici variabili e costanti abbiamo valutato i loro tipi lo spazio che occupano nella memoria il modo in cui vengono rese più efficienti o privatizzate ma non particolare che le accomuna ossia che gestiscono un solo valore al loro interno alla volta per memorizzare un nuovo valore bisogna sovrascrivere il vecchio ma con i vettori nasce il bisogno di memorizzare un insieme di valori in un'unica variabile in un unico nome dando una definizione più precisa il vettore è un gruppo di allocazione di memoria contigue che hanno tutte lo stesso tipo la prima tipologia di vettori che analizziamo sono i vettori monodimensionali i quali come le variabili necessitano di esplicitare il loro tipo di dato quindi se intero decimale o carattere dopodiché bisogna affidare sempre come con le variabili un nome univoco che non inizi con numeri o caratteri speciali non gestiti dal compilatore infine tra due parentesi quadre va inserita la quantità di elementi che contarrà il vettore in genere la dimensione è definita dalla consegna del programma da fare o alle risorse che riteniamo necessarie allo svolgimento della traccia faccio un esempio pratico creando un vettore di tipo intero con dimensione 10 allora questo vettore può contenere 10 valori distinti di tipo intero è buona norma creare una costante simbolica tramite la direttiva define e utilizzare quella costante all'interno delle parentesi quadre e laddove servirà per la gestione del vettore come vedremo più avanti ora però cerchiamo di ragionare il vettore in maniera più astratta e immaginate un vettore di dimensione 10 come 10 celle posta l'una dopo l'altra ogni cella ha la sua posizione a partire dalla prima che corrisponde allo 0 fino ad arrivare alla dimensione inserita meno 1 e nel nostro caso 10 meno 1 quindi 9 da 0 a 9 dunque il valore alla prima posizione verrà richiamato inserendo il nome del vettore e poi tra le parentesi quadre la relativa posizione se durante l'esecuzione del programma si dovesse indicare una posizione non appartenente al vettore accade che semplicemente non funziona nella maniera corretta inoltre avviso che come nelle variabili normali anche gli elementi singoli del vettore vengono inizializzati a valori random e nel caso in un vettore di tipo intero vogliate direttamente inizializzare ogni elemento a 0 vi basterà assegnare lo 0 tra due parentesi graffe e in questo modo ogni cella avrà il valore 0 ma poi vedremo meglio questo aspetto ora possiamo iniziare a fare qualche ragionamento in più e usarli nell'ft dichiara un vettore con nome numero e dimensione 10 usando la costante simbolica dim creata con define e poniamo il caso di riempire il vettore con dei numeri inseriti dall'utente e per inserire ogni elemento nella cella desiderata bisognerà specificarlo dentro le parentesi quadre ma non è bene scrivere 10 scan f nei quali ogni volta cambia la posizione perché risulta controproducente ecco che bisogna automatizzare questo processo sfruttando un ciclo e non ha importanza a quale usare perché si equivalgono ma per praticità si usa quasi sempre il for raramente il while e mai il perché il for permette di gestire a livello pratico meglio le variabili contatore in genere vedrete che si utilizza una variabile di tipo int per il contatore altri preferiscono usare unsigned dato che comunque si gestiscono solo valori interi positivi per le posizioni del vettore e in merito a ciò il tipo di dato preferenziale solitamente è il size t ma tranquilli che al momento non troverete è differente a usare l'uno o l'altro e io nel corso dei video cercherò di fare uso di size t poiché preferibile comunque sia le posizioni sono 10 nel nostro caso dallo 0 al 9 quindi il contatore dovrà partire dallo 0 ed essere incrementato sino ad arrivare al 9 compreso perciò la condizione del ciclo è contatore minore della dimensione del vettore e infine si incrementa di più 1 il contatore in questo modo si andrà sempre dallo 0 fino alla dimensione meno 1 perché quando arriverà alla dimensione stessa si uscirà dal ciclo nel corpo del ciclo chiederemo in input all'utente di inserire i valori e al posto di impostare manualmente la posizione della cella ogni volta si inserisce la variabile contatore così che automaticamente il ciclo cambi la posizione della cella dopo l'inserimento facciamo caso che si voglia visualizzare la serie di valori a partire dall'ultimo inserito fino al primo allora sarà necessario creare un nuovo ciclo for una nuova variabile contatore che questa volta partirà dalla cella dim meno 1 ovvero la nona e che arrivi fino allo 0 compreso dunque il nostro contatore dovrà decrementare a ogni ripetizione nel corpo del ciclo si usa una normale printf e le specifiche di conversione rimangono tali a quelle usate nella lezione sulle variabili pertanto nel nostro caso per i valori di tipo intero usiamo percentuale d e negli argomenti così come per lo scanf si inserisce il nome del vettore con la posizione indicata o manualmente oppure essendo in un for la variabile contatore eseguo il programma e vedete il risultato finale è importante che ricordiate che il vettore non gestisce valori non adatti al tipo assegnato quindi se dovete creare un vettore che gestisce solo valori interi usate int o unsigned o long dipende dallo scopo per i valori decimali usate float o double o long double mentre per i caratteri utilizzate char e per quanto riguarda quest'ultimo ci sarà un video intero dedicato a tutti gli aspetti delle cosiddette stringhe il più frequente è il vettore monodimensionale utilizzato per semplici operazioni come ordinamento di valori o gestione di serie di valori da cui trarre delle informazioni e vedremo nel video esercitazione vari esempi ma esistono anche vettori multidimensionali e per la precisione sono i bidimensionali dette anche matrici e tridimensionali ossia più matrici è raro che questi ultimi si vedano spesso ma non è da escludere di per sé i vettori bidimensionali hanno due dimensioni indicati distintamente in due coppie di parentesi quadra corrispondendo prima al numero di righe e poi al numero di colonna il discorso per la gestione delle celle rimane analogo con la differenza che ora c'è bisogno di due cicli for annidati uno che gestisca le righe e uno interno per le colonne infine il vettore tridimensionale usa tre dimensioni la prima per il numero di matrici la seconda per il numero di righe e la terza per il numero di colonne immaginate che sia come un quaderno a quadretti con un certo numero di pagine e ogni quadretto è una cella che contiene un valore detto ciò saranno necessari tre cicli annidati il primo più esterno che gestisce quale matrice gestire e gli altri due cicli sempre annidati tra loro che gestiscono righe e colonne un vettore di qualunque sia la tipologia può essere inizializzato prima vi avevo detto che se si voleva assegnare 0 a ogni cella bastava assegnare quel valore tra due parentesi graffe ma è possibile anche fornire qualsiasi altro valore per esempio abbiamo un vettore di tipo intero con dimensione 5 ecco che vogliamo assegnare i valori in posizione uno dopo l'altro al nostro vettore inserendo la serie tra due parentesi graffe il numero 1 andrà nella cella 0 il numero 2 andrà nella cella 1 il 3 nella cella 2 il 4 nella cella 3 e il 5 nella cella 4 se invece sempre con lo stesso vettore inseriamo solo i primi due valori il resto viene inizializzato automaticamente a 0 in aggiunta a partire dal c99 è stata introdotta la possibilità di specificare anche solo le celle a cui assegnare a determinati valori mentre il resto ovviamente viene posto sempre a 0 quindi nel caso volessi dare solo le celle 2 e 3 dei valori posso farlo specificando la posizione tra le parentesi quadre non è invece concesso dare le graffe vuote a seconda del compilatore potreste ricevere o un errore o un warning infine un'ultima possibilità è quella di non specificare la dimensione ma inserire solamente la serie di valori tra le graffe e automaticamente il vettore sarà della stessa dimensione del numero di valori inseriti arriviamo alla differenziazione dei vettori costanti e di lunghezza variabile partiamo dai vettori costanti che sono i più semplici in un programma dove per esempio è necessario fare una ricerca di una stringa che rimane sempre tale oppure utilizzare in un determinato modo anche valori interi o decimali che sappiamo che non cambiano mai è utile fare uso dei vettori costanti creati tramite l'attributo const poniamo il caso di inizializzare un vettore di caratteri costante contenente le vocali e richiedo in output e in input di inserire una parola da parte dell'utente che verrà memorizzata all'interno del vettore stringa state attenti che questo è un piccolo esempio e parlerò molto più approfonditamente delle stringhe in un video a parte che trovate nella playlist del corso attenetevi ora solo a questo piccolo esempio dove voglio contare le vocali presenti all'interno della parola per fare questa ricerca è necessario utilizzare un ciclo for che esaminerà carattere per carattere la nostra stringa e ogni carattere deve essere confrontato con un altro ciclo interno al primo con le vocali appartenenti al vettore costante e a caso il carattere coincida con la vocale allora si incrementa il conto a vocali quando tutto il controllo è concluso viene stampato in output il risultato ciò che è importante da capire è che questo programma può essere generalizzato come meglio si vuole ma soprattutto è di facile comprensione perché chi legge il codice sa che quel vettore è costante grazie al const e quindi non può essere modificato in alcun modo non è possibile segnare dopo l'inizializzazione posta in alto a una qualsiasi cella un altro carattere in caso si provasse si visualizzerebbe un errore durante l'esecuzione del programma per quanto riguarda invece i vettori dinamici il discorso si complica dato che in passato e in precisione prima del C99 per creare vettori con una dimensione non predefinita ma determinata durante l'esecuzione del programma bisognava allocare dinamicamente la memoria e lo vedremo più avanti con le lezioni adesso invece è permesso e lecito creare vettori di lunghezza variabile detti VLA ovvero la dimensione del vettore è data durante l'esecuzione del programma chiedendo per esempio l'utente quanti valori voglia inserire per fare una media matematica dei propri voti scolastici capite che può essere vantaggioso generalizzare in questo modo i limiti da gestire in una prima esecuzione 10 voti e in quella dopo 3 senza aver creato costanti simboliche con il define anche la memoria giova da questa feature perché l'uso a metà di un vettore di 100 spazi per esempio pesa di più di 1 da 10 esistono comunque delle limitazioni per i VLA ossia non possono possedere le classi di memorizzazione static o extern concludiamo il video con i vettori come parametri di funzione premetto che questo argomento verrà rivisto nei video dedicati ai puntatori perché tra vettori e puntatori c'è una forte relazione ma attualmente concentriamoci sul come passare i vettori come parametri per quanto riguarda quelli che si creano con una grandezza predefinita tramite la direttiva define basta indicare solo il nome nella chiamata di funzione mentre nel prototipo basta indicare il tipo di dato e le parentesi quadre vuote e nella funzione vera e propria indicare anche il nome che identifica il vettore sappiate che qualsiasi modifica effettuata sui vettori rimarrà anche quando si conclude la funzione chiamata se per esempio ho un vettore di dimensione 2 con due valori interi al loro interno e voglio che una funzione inverta i valori non devo preoccuparmi che la funzione ritorni in qualcosa ecco perché è preferibile lavorare con le funzioni di tipo void per i vettori perché tanto le modifiche fatte rimangono una volta conclusa anche la funzione per quanto riguarda i vettori bidimensionali e tridimensionali si inserisce nuovamente solo il nome nella chiamata mentre sia nel prototipo che nella funzione stessa la prima dimensione rimane vuota e in quelle successive si specifica la dimensione usando quelle impostate dal define con i vettori blah ci sono alcune precisazioni da fare ossia stesse regole per i vettori normali quindi le prime quadre rimangono vuote e in quelle successive si indica invece la dimensione con un asterisco che fa capire al compilatore che la dimensione non è stata specificata e quindi che si tratta di un blah ovviamente per gestire al meglio poi il vettore è necessario passare come parametri le dimensioni richieste all'utente dato che sizeof non ci può venire in aiuto ma scopriremo il perché più avanti sempre con il video dei puntatori una piccola nota d'attenzione riguarda i vettori monodimensionali perché l'asterisco può anche non essere indicato ma è meglio mantenerlo per far capire a chi legge il codice e al compilatore che comunque si tratta di un vettore blah detto tutto ciò vedremo degli esercizi in merito nel video apposito sulle esercitazioni sui vettori la lezione è conclusa se avete qualcosa da chiedere fatelo pure nei commenti e cercherò di rispondervi se non siete già iscritti al canale iscrivetevi seguitemi su telegram e su instagram e noi ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi ciao